buongiorno non sono sola c'è lui è lui o non è lui ma certo che non sono io in realtà sono un fotogramma fotomontaggio volevamo attraversare qua ma c'è una piccola ostruzione c'è anche la nostra piccolina con tanto di fiocchetto rosa ho abbellito il passeggino scappiamo un secondo che così scendiamo ciao ciao buona tardi tornate a casa tornafuoco qui c'è papo qui c'è cucciola e qui c'è ci siamo presi una pizza perché oggi papo è a casa sono le tre dobbiamo fare un po' di spesa e quindi ci siamo presi una bella pizza e papo ha fatto danno che tra l'altro non mangio da papo ha fatto danno cosa hai fatto guarda sopra il computer no fa niente vapore pensava di aver allagato il computer no è solo il calore della pizza tranquillo contatto di simpson ovvero il cartone preferito di papo voi fate quello che volete io magno sì adesso anche oggi per vedere le pizze che abbiamo preso ho preso questi contadina no vabbè ma i fagostini di palline qua ho preso mi ispiravano non so perché infatti spero siano buoni sono tipo palline al formaggio no non sono palline al formaggio ma come no ma no che grossi ma sono al formaggio almeno ah ah sì che formaggio c'è passaggiare vedere un morsino mmm buonissimi beh io direi che vi saluto noi vi salutiamo andiamo a pappare poi c'è come pizza ah già la pizza questa che è mia la contadina con salsicce e peperoni grigliati che ovviamente me ne da una fetta no mia no prima hai detto che me ne da una fetta è la mia è la classica viennese grigliati cibo cibo no la sta già puntando tutto qui facciamo ancora la nanna cucciola comunque dai rumori che sentite non c'è un trasloco in corso riccardo che sta facendo la spremuta perché gli è venuta voglia di spremuta e quindi l'ha fatta anche per federico che è tornato da scuola e vuole fare merenda qui c'è qualcuno che si stiracchia e si mette comoda guardatela lì tutta sonnecchiosa e tra l'altro di tantissime mi avete scritto su instagram per la fascia quindi farò un video dedicato in cui vi faccio vedere come come si indossa per i bimbi piccolini e come inserire il bimbo all'interno quindi dopo questo video sicuramente ve lo farò molto volentieri vi dico la marca vi dirò tutto dove l'ho acquistata e quanto l'ho pagata insomma vi dirò tutto quanto visto che me lo avete richiesto davvero in tantissime ci tengo ad accontentarmi e io e la piccola ale vi facciamo vedere anche come si indossa anche io ho dovuto imparare ho guardato dei tutorial insomma però ve lo faccio molto volentieri e poi cos'altro ordinato? poi sempre su amazon perché praticamente se raggiungi un tot di ordine non paghi la spedizione quindi io ne ho approfittato e ho preso anche questo qui che me ne hanno parlato benissimo è il multisensory bubble bath per farle il bagnetto per quando magari finisco perché ho preso anche le buste di vuole il ciucciotto la mia patatina ecco cosa cercava quando finisco poi le buste quelle sempre della mustela che ho preso al amido di riso mi pare comunque quello per fare il bagnetto ai neonati quando finirò quello almeno ho questo qui c'erano altre cose che volevo farvi vedere ma come sempre quando poi vloggo non mi ricordo comunque si è ordinato la fascia ho ordinato anche l'agenda 2019 per segnarmi tutte le spese tutte le cosine per anche i video insomma da tenere per tutto di molang molto carina me l'avevo fatta vedere una sera in cui ho fatto un vlog notturno mi pare e l'ho ordinata solo che arriva proprio più avanti arriva tipo ad aprile ci metterò un po' e poi 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 c'era qualcos'altro che volevo farvi vedere ma boh non mi ricordo comunque in caso mi venisse in mente dopo ve lo farò vedere dopo oggi giornata bellissima c'è un sole veramente che spacca le pietre stamattina che siamo usciti si stava da dio c'era proprio una temperatura meravigliosa e siamo usciti proprio volentieri un po' insieme e niente quindi adesso mi vado a godere la mia spremuta il mio bimbo tra l'altro ci tenevo ad approfittare di questo vlog per ringraziarvi a tutte le nuove iscritte le iscritte che ci sono da sempre perché siamo arrivate a 6.000 iscritti per me sono veramente tantissimi tantissimi solo l'idea che siete 6.000 là dietro questo schermo dietro questa videocamera mi fa effetto veramente tantissimo che vergogna però insomma grazie di cuore a tutte quante e sì le nuove iscritte mi scrivono perché non non filmo anche Federico non è l'altro mio figlio quindi lo ridico qui in questo vlog per tutti i nuovi iscritti Federico ha un altro papà non è Riccardo suo papà e quindi il suo papà non ha piacere che venga filmato su youtube quindi devo rispettare questa cosa quindi posso filmare Alessandra perché io e Riccardo siamo d'accordo ma non posso filmare Federico quindi il motivo è semplicemente questo quindi sappiate che Federico ha la sua vita felice e semplice come tutti i bambini ma non posso rendervi partecipi di questo altro amore della mia vita insomma quindi pazienza insomma però quello che posso lo condivido sempre con piacere con voi che siete le tesorine il mio amore mi vizia che buona poi bella fresca mi piacerà anche ad Alessandra le arriverà tramite il latte era molto buona questa spremuta buonissima ma perché talmente buona mezzo bicchiere se l'è ma smetti la sorsetto davanti all'oro questo perché vuol dire che l'hai fatta veramente buona questa spremuta o l'ha fatto lo spremiagro ce n'è ancora un po' e vuoi? no intanto non te la lavo vedi sapevo io un'altra cosa che mi è venuta in mente che ho ordinato sempre su Amazon per fare cifra diciamo per avere la spedizione gratis è questo vetro temperato per la switch che non avevamo ancora preso che è qua prima di rigare lo schermo abbiamo pensato di prendere il vetro temperato e poi qua c'è Grace Anatomy perché non so se lo sapete magari le nuove iscritte non lo sanno ma ho tutta la collezione di DVD di Grace Anatomy questa qua è l'undicesima stagione è un po' che non che non lo continuavamo quindi abbiamo deciso di riprendere e abbiamo iniziato la prima puntata adesso in realtà l'avevamo già visto penso già metà metà serie l'avevamo già vista di questa però non ci ricordavamo i dettagli e quindi abbiamo pensato di riprendere dall'inizio per non perderci nessun pezzo e vi faccio vedere la mia collezione aiuto ta-da eccola qua ho anche già la dodicesima pronta lì per essere vista che quella proprio non l'ho ancora vista e poi acquisterò le altre che mi mancano perché mi piace tantissimo e ci tengo a collezionarla mi ha rubato il lavoro ha deciso di fare lei Riccardo si sta piegando le mutande ragazze sentite che musica di sottofondo magari magari hanno messo la parete a vetri ovviamente l'unica volta di sottofondo Resto che perdo il tram Momento struccaggio Perché ora mi darà nanna Tra virgolette Perché oramai Ecco appunto Cioè mi sono staccata due minuti E c'è Riky che la sta cullando Ma niente Però almeno sono riuscita a farmi una doccia E a struccarmi Ne ho veramente bisogno Io approfitto di questo momento Struccaggio per Salutarvi Darvi la buonanotte E chiudere questo vlog E' stato un vlog Abbastanza breve Però insomma ci siamo Goduti diciamo la giornata Insieme Perché appunto era il riposo di Riky Quindi siamo sempre contenti Quando è con noi Insomma Domani arriverà un altro pacchettino Quindi non so se domani O nei prossimi giorni farò un vlog Vi ne parlerò Ma non vi svelo nulla Perché è una cosa magica Veramente carina Da vedere Quindi E' una collaborazione Però vi racconto Poi nei prossimi video E cos'altro Cos'altro Sono veramente felice Ragazze Perché L'arrivo di Alessandra Ha veramente completato La nostra famiglia E sono in un periodo Bellissimo Della mia vita Sono felice Che ci posso fare Sono veramente Veramente felice Sto cercando di godermi Il più possibile Ogni momento Ogni minuto Con la mia bimba E basta Basta perché poi Sono ancora in fase Riassestamento ormoni Quindi ho una lacrima facile Sono in un periodo particolare Della mia vita Perché sono in quella fase Fragile Ma mi sento veramente Tanto tanto amata Ricchi mi fa sentire Veramente Amatissima E' Alessandra Federico I miei figli Insomma Mi danno quel senso Di completezza No? Poi sto trovando Pieno pieno Il mio equilibrio Organizzare le mie giornate Riuscire a organizzarmi Tra bimba Bimbo Pulizie Tra l'altro Mi avete dato Un sacco di dei video Ho salvato le stories Su Instagram Se non mi seguite Seguitemi Mi trovate come Robertina underscore YouTube Lo lascio qui sotto Trovate sempre il link Nell'info box Insomma Mi avete dato Un sacco Un sacco Di Di idee E Molto molto carine Tra cui La morning greeting Con la piccolale La night routine Sempre con la piccolale Insomma Mi avete dato Un po' di Un po' di idee Quindi Aspettatevi Tanti tanti video E poi sicuramente Dopo questo Farò Il video Che mi avete richiesto Sulla fascia Quindi cercherò Di farvi vedere Come faccio io Come mi trovo Ve ne parlerò Insomma Non è una collaborazione Però ve ne parlo Molto volentieri Su Come mi sto trovando Perché mi sto trovando Veramente Molto molto bene Ad Alessandra Che c'è tantissimo Quella fascia Proprio Soldi super ben spesi Perché Si addormenta subito E E' comodissima Veramente Mani libere Poter fare le cose in casa Quindi Super wow E niente ragazze Io mi sono struccata Adesso vado Dalla piccola Ale Che mi reclama Come potete sentire Vi mando Un sacco di bacioni Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao